Ciao, sono Deborah Salvatore Rinaldi, attaccante del Milan. Ciao, mi chiamo Rita Coda, sono attaccante e gioco nel Napoli femminile. E' ora di fare colazione, i miei due concubini ancora non si sono svegliate, non penso che tra poco si svegheranno perché poi è pieno di alimento, fatto in casa ovviamente, qui c'è il piano alimentare e la civile, quindi tazza sulla bilancia, aggiungiamo di frutta secca, di pasticcia in bucrisca e di yogurt. Ecco, la collezione è pronta. Per inizia la giornata, la mia collezione è yogurt greco, fette biscottate e frutta secca a piacere. Grazie a tutti. La scelta messa, tenuta sportiva, adesso facciamo l'allenamento mattitino del programma che ci manda il nostro preparatore atletico del Milan. Questi gli attrezzi che avevamo in casa, quindi adesso andiamo ad allenarci. Questa macina per variare un pochino il lavoro, ci siamo fatti proporre dal preparatore un allenamento utilizzando gli scalini del piano meno uno del nostro condominio. Qui abbiamo messo gli esercizi che Martina ha trascritto e quindi niente, ora si fatica un pochino. Qui abbiamo messo gli esercizi che Martina ha trascritto e quindi si fatica un pochino. Qui abbiamo messo gli esercizi. Dopo l'allenamento mangio il mio pranzo e questo è un pranzo tipico danese con pane e molto verdure, pesce e uovo. Mi piace, buon appetito! Molto bella! Bene, il pranzo è pronto. Ho fatto una frittata al forno e radicchio sulla piastra perché mi sono concessi due cucchini d'olio che metterò ora a crudo. Quindi buon appetito, ci vediamo alle tre per la lezione d'inglese online. Per il pranzo di oggi ho cucinato riso, omotellini e uova sode. Sono leo, iscriviti! Adesso sono le 15 e ci siamo appena collegate per fare la lezione d'inglese online con la teacher che ci mette a disposizione il nostro club. Quindi abbiamo deciso di proseguire grazie alla sua disponibilità e ora vi saluto perché facciamo inglese. Ciao! In questa quarantena ho avuto molto tempo libero e ho scoperto il piacere della lettura. Ho letto davvero tanti libri. In questo momento per esempio sto leggendo La Galassia Mente di Rita Levi Montalcini. E' ora di cena e io e Lau siamo a tavola. Questa sera salmone e insalata. La cena di questa sera è pesa di cacchino, broccoli e pane integrale.